La speranza di vita degli italiani secondo l'Istat aumenta di soli 5 mesi, ma rispetto al 2010 sono 7 in più gli anni per poter andare in pensione. Il dato pubblicato segna un aumento della speranza di vita a 65 anni fra il 2013 e il 2016. Da ciò, a meno di interventi legislativi, l'età per la pensione di vecchiaia per uomini e donne arriverebbe a 67 anni nel 2019, mentre i contributi necessari per l'uscita anticipata arriveranno a 42 anni e 3 mesi. 43 anni e 3 mesi per uomini. Le donne dipendenti private che nel 2017 escono ancora a 65 anni e 7 mesi dal 2018 avranno un nuovo incremento di un anno raggiungendo la parità per l'uscita con la pensione di vecchiaia con gli uomini. Rispetto al 2010 l'aumento per le donne per il raggiungimento dell'età di vecchiaia è di 7 anni. La classe più penalizzata è quella delle donne nate nel 1953, dato che quelle dal 1952 sono potute uscire grazie ad una deroga dal 2016 a 64 anni, oltre agli adeguamenti all'aspettativa di vita, avendo però almeno 20 anni di contributi maturati entro il 2012. In pratica, potrà succedere che due compagnie di banco, andate entrambe nel 1953 ma con scelte di vita diverse, si trovino di fronte a percorsi di pensionamento molto differenti. Ipotizziamo, infatti, che la prima abbia cominciato a lavorare nel pubblico impiego poco dopo il diploma nel 1974 a 21 anni e che abbia soffrito della possibilità di andare in pensione baby dopo aver versato 14 anni, 6 mesi e un giorno di contributi, possibile fino al 1992 per le donne sposate con figli, quindi a fine 1988 a 35 anni. E ipotizziamo che la compagna di banco si sia laureata e abbia iniziato a lavorare a 26 anni nel 1979 nel settore privato. Questa seconda signora è al momento 64enne e dovrà aspettare per uscire dal lavoro il 2020 quando avrà 67 anni di età, quindi la seconda avrà lavorato quasi 27 anni più della prima e andrà in pensione con oltre 30 anni di età in più. Ma al di là delle baby pensioni differenze significative ci sono anche per chi ha lavorato nel settore privato con piccoli divari di età. Chi è nato nel 1953, insomma, rincorre la pensione di vecchiaia fino al 2020.